Un dovere etico, così i consigliari regionali di Valore e Abruzzo commentano la scelta di assumere un impegno concreto in questa campagna elettorale per le politiche del 25 settembre a sostegno di Forza Italia. Dunque la candidatura alla Camera di Simone Angelosante per il proporzionale vuole essere il valore aggiunto in questa corsa politica accanto agli alleati di area moderata per mettere in campo competenza e professionalità che serviranno all'Italia per affrontare sfide importanti e conseguire obiettivi essenziali nei prossimi cinque anni di governo sotto l'egida del Partito Popolare Europeo. E quanto emerso nella conferenza stampa indetta dai consiglieri regionali di Valore e Abruzzo, Simone Angelosante, Antonio Di Gianvittorio e Emanuele Marco Vecchio per i quali il voto del 25 settembre si prospetta come una sfida non semplice ma essenziale per tracciare il terreno in cui l'Italia giocherà la partita contro disoccupazione, inflazione e caro energia, solo per citare alcuni dei problemi più importanti con cui il paese dovrà confrontarsi già in autunno in un contesto internazionale complicato dagli scenari di guerra. La necessità di mettere in campo le migliori risorse e affidarsi a persone qualificate ci ha portato a convergere sulla scelta di Simone Angelosante, capogruppo in regione di Valore e Abruzzo, quale candidato del nostro gruppo federato con Forza Italia, annunciato Emanuele Marco Vecchio in conferenza stampa. Il nostro non è un appoggio formale a Forza Italia ma sostanziale, ha aggiunto Antonio Di Gianvittorio, mentre Simone Angelosante, candidato alla Camera per il Proporzionale, ha sottolineato la necessità di ribadire i valori di area moderata per l'Italia in linea con i partner europei. Siamo nati come gruppo consigliare di Valore e Abruzzo sotto legida del Partito Popolare Europeo, ha dichiarato Angelosante. La nostra presentazione, che è avvenuta all'Aquila, già qualche mese fa infatti, è stata sotto quelle bandiere le stesse che oggi affiancano il simbolo di Forza Italia, ragion per cui è stato naturale per noi tre consiglieri regionali aderire alla campagna elettorale di Forza Italia. E sullo scenario che si prevede all'indomani del 25 settembre, Angelosante pronostica che forse per la prima volta ci sarà una forza di governo che avrà i numeri parlamentari per andare avanti, senza la necessità di dover condividere obiettivi a tutti i costi. C'è un programma chiaro, ci sono degli obiettivi certi e sicuri e quindi, con la forza dei numeri che almeno dai sondaggi si prospetta, si potrà finalmente dare al popolo italiano una chiarezza di intenti e di obiettivi che finora in Italia non c'è stata, ma che invece in questa occasione potrebbe finalmente esserci.